Buongiorno, che bello vedervi così in tanti in questo meraviglioso teatro. Ecco, siamo qui con Antonio Scurati che ha bisogno in realtà di poche presentazioni perché sfido a trovare qualcuno che non abbia letto almeno uno dei suoi tre volumi della trilogia di M e sicuramente Scurati, in particolare secondo me proprio con il primo di questi volumi, Il figlio del secolo, è diventato ed è stato il caso letterario degli ultimi anni, il caso editoriale proprio, sappiamo che è stato tratto anche un bellissimo spettacolo con Massimo Popolizio e presto vedremo anche un'importante serie tv, una produzione di Sky Original proprio appunto su M, Il figlio del secolo. È molto interessante il successo editoriale di questa operazione, di questa trilogia che peraltro è un successo di cui si è dibattuto non solo nel nostro paese ma anche a livello internazionale, in quanti paesi è stato tradotto, decine e decine di paesi ed è molto interessante questo perché ci fa secondo me anche riflettere su quanto la forza di questo libro, di questo racconto, di questo romanzo che per me sarebbe riduttivo chiamare solo un romanzo storico sta proprio nella contemporaneità di quello che ci racconta. Questo però, ed è una delle cose su cui rifletteremo oggi, non solo e non tanto per i riferimenti alla stringente attualità, il primo volume è uscito nel 2018 da un certo punto di vista, anche anticipato se vogliamo, quello che poi sarebbe stato insomma il risultato elettorale che abbiamo visto quest'anno con l'affermazione del primo governo in Italia dichiaratamente post fascista. Però secondo me sarebbe riduttivo, oltre che fuorviante, riportare la contemporaneità e la forza di questo romanzo solo a questo, anche perché è proprio un po' limitante forse cercare di ricondurre tutto al discorso fascismo e antifascismo, qualsiasi forma di potere un pochino più autoritario. Credo che la forza e la grandissima attualità di M sia invece e stia proprio appunto non solo e non tanto in questo riferimento a un possibile ritorno del passato, che se non sbaglio proprio tu stesso hai definito quasi una suggestione un po' autoconsolatoria, ma quanto appunto invece la forza che Mussolini ebbe come personaggio politico nella sua capacità diciamo così di tracciare quelli che sono poi i tratti di una forma politica che noi oggi chiamiamo, definiamo diciamo così quella appunto del populismo. E potremmo dire che forse non c'è quasi nessuno dei leader politici attuali sia italiani, ma forse insomma possiamo pensare anche poi a degli esempi internazionali che non si riferiscono in qualche modo a quelle che sono state le intuizioni politiche di Mussolini. Un Mussolini quindi che non fondò solo il fascismo ma inventò anche proprio il populismo. Nel viaggio e nel racconto che Scurati fa nei suoi tre romanzi e che oggi insomma in parte cercheremo di rifocalizzare, insomma cercheremo, devo dire che il personaggio di Mussolini è un romanzo corale sicuramente, per me è un personaggio quasi un po' mondo, perché in realtà insomma riesce a sintetizzare molto non solo della sua epoca ma appunto questi tratti che sono un po' archetipici e poi lo vedremo e sono sicura che lo analizzeremo assieme. Appunto quello che viene fuori sempre di più in questo sguardo anche retrospettivo su quel periodo che però appunto ripeto secondo me anche la forza perché in realtà ci dice tantissimo del nostro presente, della nostra contemporaneità è che se da una parte con una mano appunto il fascismo stava e avrebbe poi violentato l'Italia, dall'altra parte Mussolini con la sua politica l'avrebbe poi seduta. Ed è proprio questa forza di seduzione e i motivi di questa capacità insomma attrattiva di Mussolini che ti chiederei insomma di aiutarci a rivedere. Ecco, grazie. Grazie. Allora, buongiorno a tutti. Innanzitutto io devo confessarvi che ogni volta che mi trovo in uno di questi meravigliosi luoghi di cui il nostro paese è disseminato, devo superare un iniziale imbarazzo perché nella mia mente così un po' frastornata, un po' disturbata, da quando sono salito su questo palco si affaccia costantemente questo pensiero, non sono degno, non sono degno, non sono degno di stare qua su. Però cercherò di farmi forza. Allora, condivido appieno ciò che è stato appena detto anche perché l'ho ripetuto io molte volte, ma vorrei invitarvi a seguirmi in uno sguardo che adotti diciamo così una focale lunga, no? È un'inquadratura ampia perché sennò corriamo il rischio di essere schiacciati dalla dittatura del presente, no? Dalla cronaca politica che poi dura un giorno e di parlare sotto dittatura del presente, no? Allora, adottiamo questa focale lunga, questa inquadratura ampia. cerco di sintetizzare in quattro date, brevemente, le origini del fascismo e poi, per poi, venire alla questione, no? Che è posta fin dal titolo di questo nostro incontro, di questo mio intervento, vale a dire il rapporto tra fascismo e populismo. Allora, prima data, via, 18 di marzo del 1919. Milano, piazza cinque giornate. Si commemorano le gloriose cinque giornate di Milano, vale a dire il più alto contributo che la città di Milano diede al risorgimento, quando nel 1848, molti anni prima, la città di Milano insorse contro l'occupante austriaco e con la sola forza di popolo, erano quasi disarmati i milanesi all'epoca, con la forza di una magnanima disperazione, scacciò gli austriaci dalla città. Mi piacerebbe parlarvi per un'ora di questo, anche perché ho scritto un romanzo anni fa su questo, che si intitola una storia romantica che mi è molto caro, ma non è di questo che dobbiamo parlare. 1919, molti anni dopo, in piazza cinque giornate, si commemora il risorgimento italiano e lì ci sono Benito Mussolini e anche molti dei reduci che hanno appena combattuto nella Prima Guerra Mondiale. Cosa succede lì? C'è un camion degli arditi. Gli arditi erano, diciamo così, le truppe d'assalto della Prima Guerra Mondiale. Il commando, diremo oggi. La Prima Guerra Mondiale è finita da pochissimo, è finita il 4 di novembre dell'anno precedente, da pochi mesi, e durante tutto il periodo dei combattimenti gli arditi sono stati magnificati, celebrati dalla retorica patriottica come eroi. Però, non appena i combattimenti finiscono e loro non servono più, vengono in qualche modo scaricati dallo Stato, vengono congedati quasi silenziosamente, emarginati e dimenticati. Per varie ragioni, in un ultimo il fatto che molti di loro, essendo stati dediti alla violenza, sono difficilmente riconciliabili con una società pacificata. Lì, Benito Mussolini compie un gesto che poi sarà fatidico, nel senso che estenderà le proprie conseguenze sulla parte rimanente della storia italiana. Benito Mussolini è in questi mesi uno sbandato. È un uomo alla ricerca di un popolo e di una strada per il potere. È un leader politico che non ha più un popolo, lo ha smarrito, anzi ne è stato respinto e non ha più una strada da percorrere, la sta cercando. Perché, come molti di voi sapranno, Benito Mussolini, prima della guerra era stato un leader del Partito Socialista, uno dei leader più amati soprattutto dall'ala giovane radicale rivoluzionaria del Partito. E però non lo è più, perché proprio a causa della guerra lui è stato espulso con ignominia dal Partito, perché ha cambiato la sua posizione riguardo all'ingresso dell'Italia in guerra. La posizione ufficiale del Partito Socialista era una posizione pacifista, ma pacifistativa, nel senso che rifiutava la guerra ritenuta una guerra imperialista e capitalista e quindi nemica del popolo. Mussolini, nell'arco di poche settimane, cambia idea riguardo a questo e inizia dall'interno del Partito, lui era il direttore dell'Avanti, il giornale simbolo, il giornale bandiera del Partito, dall'interno invece a sostenere che l'Italia debba entrare in guerra. Bene, ne viene espulso, ripudiato, inizia a essere odiato dai suoi ex compagni, fonda il suo giornale, del popolo d'Italia, contribuisce attraverso la sua posizione interventista ad avallare poi la decisione nel 15 del governo italiano di portare l'Italia in guerra e però a guerra finita si ritrova con un giornale, un suo pulpito, ma senza un seguito, senza un popolo, senza un pubblico, senza una strada da seguire per le proprie ambizioni politiche. Quel 18 di marzo del 1919 ha, ahimè, un'intuizione, sale sul camion degli artiti, proprio fisicamente, erano dei camion, dei furgoni aperti, no? Decide che quei reduci di guerra, professionisti della violenza, irriducibili e riconciliabili con la vita paricifica, saranno l'embrione del suo futuro popolo. Seguono canti, inni, brindisi, bicchierate, vanno nella sede dell'associazione Arditi d'Italia di Milano, che si trovava in via Cerva, nel retro di una bottiglieria, dove c'è ancora oggi una bottiglieria fra l'altro. E lì, brindisi, gli Arditi gli giurano l'eterna fedeltà, lui dice che ne patrocinerà la causa, e quello nella mitologia fascista rimarrà il covo numero uno. Il fascismo, se vogliamo, prima ancora che a Piazza Sansepolcro, nacque quel giorno nella sede dell'associazione Arditi d'Italia. Quegli uomini della guerra saranno il primo nucleo degli squadristi del fascismo. Soltanto poche settimane dopo, il 15 di aprile, quegli uomini, su indicazione di Mussolini, andranno all'assalto della sede dell'Avanti. Il giornale di cui Mussolini era stato il direttore fino a pochi anni prima, lo assalteranno con le armi, con la violenza, causando dei morti, e lo incendieranno, e porteranno l'insegna dell'Avanti come trofeo di guerra a Benito Mussolini. Che ne era stato il direttore fino a pochi anni prima. Ma prima di quella data, 15 di aprile, c'è un'altra data, 23 di marzo del 1919. Pochi giorni dopo Piazza Cinque Giornate, c'è la famosa prima riunione di Piazza Sansepolcro. In Piazza Sansepolcro a Milano, in una sala presa a prestito dall'Associazione per il Commercio e per l'Industria, vengono fondati i fasci di combattimento. Allora quanti erano in quella prima riunione? meno di cento. Noi qui dentro, oggi, nel Teatro Carignano di Torino, siamo molti di più di quanti furono i fondatori del fascismo in Piazza Sansepolcro a Milano nel 1919. Erano meno di cento. Fu un fallimento l'iniziativa, tant'è che prima avevano affittato la sala del Teatro Dal Verme, che c'è ancora, esiste ancora a Milano, conta circa mille posti, ma poi resi conto che sarebbero stati in pochi e hanno ripiegato su quella sala. Chi sono questi cento? Per lo più degli sbandati come Mussolini. Moltissimi, quasi tutti reduci ex combattenti, quasi tutti moltissimi arditi, come dire, disadattati. Gente che non ritrova il proprio posto nella società civile pacifica. Alcuni ex sindacalisti rivoluzionari, non pochi giornalisti, qualche artista, gazzettieri disperati, pochi borghesi, meno di cento. 23 marzo del 1919, da poco c'è stata la ricorrenza. Passiamo all'autunno. Novembre dello stesso anno. Prime elezioni politiche nell'Italia del dopoguerra. Siamo sulla soglia di una nuova era. La prima guerra mondiale è finita da poco, svariati milioni di morti, sei milioni di ritornanti, reduci ex combattenti solo in Italia, che premono, diciamo così, alle porte della nazione, della società, a cui sono state fatte molte promesse, molte delle quali non saranno mantenute. Tre dinastie e tre imperi che avevano governato l'Europa negli ultimi cinque secoli, crollati nell'arco di pochi mesi. Un nuovo mondo, un clima febbricitante in cui questi uomini sentono che tutto è possibile in quell'istante e si preparano a dare il loro assalto alla storia. Benito Mussolini e i suoi fasci di combattimento, pur animati da una retorica profondamente antiparlamentare e antielettorale, lo vedremo, parlavano con grande disprezzo sia del Parlamento che delle elezioni politiche e dei programmi elettorali si candidano, decidono di candidarsi con una lista dal nome e dal simbolo esplicito. La chiamano lista Teveno. Che cos'era la Teveno? Era una bomba a mano, una granata da lancio e il simbolo, il primo simbolo elettorale dei fascisti è una granata da lancio, quella che usavano gli arditi nelle trincee della Prima Guerra Mondiale. Chi c'è nella lista di questi sciamannati? Solo degli esaltati? No, ci sono delle personalità anche del mondo della cultura e dell'arte. In questa lista c'è, oltre allo stesso Mussolini, che comunque era una personalità nota in Italia, preminente, c'è Arturo Toscanini, il maestro, il grande direttore, che soltanto pochi anni dopo sarà una delle bandiere dell'antifascismo a livello internazionale. C'è Filippo Tommaso Marinetti, un genio a modo suo, l'inventore del futurismo e altri. Bene, qual è il risultato delle elezioni? Chi ha dispetto di questi nomi, anche noti, anche prestigiosi? I neonati fasci di combattimento ottengono soltanto 4.600 voti in tutta Italia. Un fiasco totale. Nessun eletto, nemmeno Mussolini. Per farvi un'idea del fiasco dell'insuccesso tenete presente che il Partito Socialista, che a quella data era l'antagonista di Mussolini, l'avversario, perché lui, essendone stato espulso, cercava, come dire, di riconquistare quel popolo contro il partito che riteneva governato dai netti, da uomini che la rivoluzione non avrebbero mai fatta, da incapaci e cose. Bene, il Partito Socialista in quelle elezioni ottiene 1.800.000 voti. Un trionfo. La grande idea ottocentesca del socialismo, della giustizia sociale, della solidarietà popolare, del futuro, del progresso, del fatto che la promessa che la vita dei nostri figli sarà migliore della mia e quella dei figli dei figli è ancora migliore. dilaga, trionfa. 4.000 voti da una parte, 1.800.000 dall'altra. Mussolini viene considerato un politico finito. Il direttore del Corriere della Sera, che era uno degli massimi esponenti del pensiero liberale, interviene per farlo scarcerare perché viene arrestato subito dopo le elezioni, perché in un'irruzione della polizia trovano nel suo ufficio, nella sua cassaforte, bombe a mano, pistole, che erano state usate nei giorni immediatamente successivi alle elezioni da alcuni suoi squadristi contro i cortei dei socialisti. Il direttore del Corriere della Sera telefona a Nitti e gli diceva che Mussolini è già un rudere, liberatelo, non facciamone un martire. Lui stesso si considera un politico finito. Si dispera, si lamenta con Margherita Salfatti, sua amante e sua, come dire, mentore. Dice basta, di politica ne ho fatta fin troppa, posso cambiare mestiere, posso fare il musicista girovago. Lui strimpellava a malapena il violino, ma pensava di... posso scrivere dei drammi, posso scrivere un romanzo. È vero, eh. Chissà perché quando uno non sa più cosa fare pensa di scrivere un romanzo. La Salfatti lo rincuora, gli dà forza, gli fa coraggio e lui non abbandona la politica. Ma quest'uomo che è considerato un politico finito, da tutti, anche da se stesso, pensate che i suoi ex compagni socialisti, ai quali non mancava il buon umore, anche lo spirito goliardico, grazie a Dio, quando c'era il socialismo. Inscenano un finto funerale sotto le finestre del suo ufficio nel Bottonuto di Milano, che era il quartiere della prostituzione. Fanno un funerale con la bara aperta, però è un funerale non luttuoso, è un funerale allegro, perché cantano, appunto, le canzoni di lotta e c'è una bara aperta con un fantoccio con le sembianze di Mussolini all'interno, per schernirlo. Sull'Avanti compare un trafiletto nei giorni successivi che dice ritrovato un cadavere in stato di decomposizione nel naviglio, pare che sia il cadavere di Benito Mussolini. Insomma, questo politico finito, nel novembre del 1919, 20, 21, 22, ottobre, soltanto tre anni dopo, marcia su Roma, lui arriva a Roma comodamente viaggiando in vagone letto da Milano, questo non va mai dimenticato, e lui, figlio di un fabbro, di una frazione, di un piccolo paese della sperduta provincia delle Romagne, riceve da Vittorio Emanuele, re d'Italia, adesso qua non posso inveire come faccio di solito, perché siamo a Torino, qua legge ancora, riceve da Vittorio Emanuele, re d'Italia, l'incarico di formare il suo primo governo. Mussolini, ricordatevelo, non prese d'assalto il Parlamento italiano, formò il suo primo governo su incarico legittimo e mandato del re d'Italia. Sì, c'erano le squadracce alle porte di Roma, fuori, ma formò, ripeto, su incarico del re d'Italia, con incarico legale e legittimo, sotto minaccia della violenza. Allora, come è potuto accadere ciò? La risposta che io mi do, e mi sono dato non attraverso, come dire, una meditazione teorica, l'elaborazione di un pensiero politico, a partire da un'analisi dell'attualità, ma attraverso quel tanto di intelligenza che è contenuta nell'atto di raccontare le cose, di studiarle, poi di raccontarle, e quindi di comprendere il mondo attraverso la narrazione, è quella a cui accennava prima Mandalena. Giusto, Mandalena? Giusto. E cioè che Benito Mussolini con una mano, per usare questa spiacevole metafora, ma il fatto che raccontiamo è altrettanto spiacevole, stuprò, violentò l'Italia. Non c'è dubbio, quegli arditi che abbiamo incontrato proprio nel primo giorno del fascismo, che non fu il 23 di marzo, ma il 18, quando lui salì sul camion degli arditi, erano dei professionisti della violenza e avrebbero esercitato quella violenza al servizio del fascismo lungo tutto l'arco della sua vita ventennale, non solo il primo giorno, sempre. Il fascismo è violenza, è essenzialmente, originariamente violenza, è sempre e comunque violenza. Le versioni per cui sì, però Mussolini poi avrebbe semplicemente degenerato alla fine con l'alianza, no, il fascismo è violenza fin dal suo primo giorno, per tutti i giorni della sua vita e fino al suo ultimo giorno. Ma non è solo violenza, perché altrimenti non lo capiremo come sia stato possibile che in tre anni quel cadavere abbia salito le scale di marmo del Quirinale e il re d'Italia lo abbia incaricato di formare il suo primo governo. Noi dobbiamo dire che il fascismo non è solo violenza, non per fare uno sconto al fascismo, assolutamente, ma per fargli pagare il conto intero, per vederla tutta, per capirlo fino in fondo, perché sennò non lo capiamo. Sennò poi ti dicono eh, vabbè, ma questi qui non fanno violenza, non sono fascisti. Il fascismo non è solo violenza. Con una mano violenta e con l'altra seduce. E allora noi adesso brevemente, proprio telegraficamente, perché il tempo è poco, proveremo a capire in che cosa consiste la seduzione fascista. Violenza c'è, li abbiamo visti gli arditi, tenetela presente, lasciamola un attimo sullo sfondo. La seduzione fascista io la spiego sostenendo ormai da tempo che, appunto, come diceva Maddalena, Maddalena Oliva, giusto? No, perché sennò poi dicono questo, come si permette di chiamarla solo per nome? Adesso c'è tutta sta cosa qua che bisogna stare attenti a parlare. Vabbè. Come sostiene la persona Oliva, Lì non ci arrivo, sono troppo vecchio per queste cose. Io cerco di spiegare la seduzione del fascismo sostenendo, diciamo, questa tesi secondo la quale Mussolini sarebbe stato non soltanto il fondatore del fascismo, ma anche, diciamo così, l'inventore di ciò che noi oggi chiamiamo comunemente populismo o sovranismo. Cioè lui sarebbe l'archetipo di ogni successivo, la forma originaria di ogni successivo leader populista del secolo a venire. Con questo non voglio dissociare la componente fascista dalla componente populista, diciamo così, i Mussolini sono compenetrate, però in realtà può sopravvivere come eredità storica, consapevole o inconsapevole, non importa, la componente populista anche senza quella della violenza propriamente fascista. Allora, proprio telegraficamente, scusate, no perché fuori fa freddo. Allora, va de mecum, perché poi populismo è un termine generico, anche ambiguo, usato in maniera... Allora, io provo a definire il profilo del leader populista guardando a Benito Mussolini. Allora, la prima... Il primo assunto del leader populista è contenuto in questo slogan, in questa massima che contiene a sua volta al proprio interno anche una stortura grammaticale. Leader populista dice io sono il popolo, quindi il popolo sono io. Mussolini lo fa fin dal principio. Il romanzo di Mussolini, la sua mitologia personale, quando poi verrà alimentata dai propagandisti, dai cantori, primo tra tutti Margherita Sarfatti che contribuì non poco con una biografia che faceva il giro del mondo che si chiamava Dux a creare il mito di Mussolini già alla metà degli anni venti. La quale Margherita Sarfatti poi venne bellamente scaricata da Mussolini quando non gli servì più come lui era solito fare, ma lei però cercò di servirsi di lui a sua volta e non è che poi le donne sono sempre pure e immacolate e vittime dei maschi. Non in quel caso. Allora, il romanzo di Mussolini ci dice che Mussolini era un figlio del popolo, no? Ed è vero. Il giorno in cui Mussolini sale le scale del Quirinale, le scale di Marmo e va al cospetto del re d'Italia, no? Il quale gli dà l'incarico delle cose, lui è il figlio di un fabbro, di Dovia, una frazione di un piccolo paese delle Romagne. È vero. È un figlio del popolo e questo aspetto venne costantemente sottolineato, enfatizzato dalla propaganda e lo caratterizzò definendo molti tratti, diciamo così, non solo della retorica fascista, ma anche della sua realtà, un certo antintellettualismo, un rifiuto dell'aristocrazia e tante altre cose, ma il punto è che Mussolini fin da principio non sostiene di essere un rappresentante del popolo. In Parlamento ce n'erano tanti, c'erano decine, centinaia di rappresentanti del popolo eletti nelle liste del socialismo, che era il partito più vicino al popolo. No, 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 non è una questione di rappresentanza. La rappresentanza è tipica della democrazia. No, no, qui è una questione di identificazione. Lui dice io sono il popolo, non tu, 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 tutti i rappresentanti del popolo. È una identificazione binaria, se io sono il popolo, il popolo sono io, e chiunque non sia con me o sia contro di me è fuori dal popolo e contro il popolo. prima mossa del leader populista. Attenzione, questa ha un appendice importante nel fatto che questa identificazione, questa reciprocità chiama la centralità del corpo. Mussolini che è stato un politico geniale, io non ho nessuna esitazione a riconoscerlo, ha avuto delle intuizioni su ciò che sarebbe diventata la politica nell'era delle masse che allora si apriva e che oggi è nella sua fase matura. Noi stiamo in quella storia lì, non siamo fuori da quella storia lì. Le ha avute prima di chiunque altro, ha capito delle cose, prima di chiunque altro. e non fate l'errore di guardare con sufficienza a Mussolini come a volte è stato rappresentato come una specie di caricatura, di buffone, di personaggio ridicolo, niente affatto, non va sottovalutato. E una delle intuizioni che lui ha avuto è stata quella di mettere il corpo al centro della scena politica. Quando noi guardiamo i suoi celebri discorsi dal balcone di Palazzo Venezia, lo vediamo muoversi, atteggiarsi, io ne faccio un'imitazione ma solo in casa e gesticolare, sbracciarsi, spesso ci sembra ridicolo, buffo, grottesco, ma non dobbiamo cadere in questo inganno. Lui capisce per primo che nell'era delle masse la comunicazione politica non passerà da mente a mente, da intelletto a intelletto, ma attraverso una sorta di sorda vibrazione fisica, quasi sensoriale, da corpo a corpo, da corpo del reader era il corpo elettorale e quando noi, per non citare i nostri, non so, vediamo Donald Trump che adesso torna sulla scena, questo corpone massiccio, sgraziato, con il quale aggrediva e continuerà ad aggredire le donne ogni qualvolta gli talentava e parla con questa criniera e diceva ma guarda quello, ma guarda che idiota, ma guarda che volgarità, guarda quanto è brutto. In quel momento gli idioti siamo noi perché Trump non ha bisogno di dire cose intelligenti, anzi, non sarebbe se stesso se dicesse cose intelligenti, deve vibrare fisicamente perché non tutti hanno un dottorato in scienze politiche ad Harvard, ma tutti hanno un corpo. Io sono il popolo e il popolo sono io e io incarno, incorporo, no, fisicamente, nella mia fisicità il popolo. L'identificazione è tale da sovrapporsi quasi fisicamente. Chiunque non stia con me, non sia con me, sia contro di me, non è italiano, è anti-italiano, non è americano, è anti-americano. è nemico del popolo e quindi può essere ucciso, emarginato, discreditato, perseguitato o anche ucciso. Ovviamente quando ti metti su questa strada è una strada molto pericolosa perché quando un corpo viene investito da questa aura, da questo significato simbolico quasi mistico, ci sono due possibilità. Può essere adorato, e per vent'anni il corpo di Mussolini viene adorato oppure può essere massacrato e anche quello accade alla fine. Due, il leader populista capisce, Benito Mussolini, che il leader nell'era delle masse che allora si apriva e oggi continua, sarà colui il quale si dimostrerà in grado di guidare le masse non precedendole e indicando alle masse obiettivi magari alti, lontani, che le masse non riescono a scorgere, ma seguendole, stando un passo dietro di loro. Se avanzo, seguitemi, se arretro, uccidetemi, se cado, vendicatemi. Questa è una delle più celebri slogan dell'era fascista, non era di Mussolini perché Mussolini era un magnifico orecchiante, era uno che leggeva le quarte di copertina, però poi era capace di superare l'esame, è una frase che fu pronunciata da un generalissimo dell'armata antirivoluzionaria durante la guerra di Vandea nella fine del Settecento in Francia, ma Mussolini se ne appropriò. Ma in questa massima mente Mussolini non avanza ma dietro, un passo indietro. Sembra un paradosso, come fai a guidare stando indietro? Così. questo significa che Mussolini ci sta dicendo come era nei primi anni quelli che io racconto nel primo volume di M che lui non ha nessuna idea sua, non ha nessun orizzonte strategico di prospettiva ampia, solo tattica, non ha nessun principio a cui rimanere fedele, nessuna lealtà, nemmeno a se stesso. Prima era socialista, poi fascista, prima era anticlericale, anarcoide di Romagna e poi farà i patti lateranensi, prima era repubblicano e poi subito accetterà di collaborare con il re, eccetera, eccetera. Prima era per il libero amore, convisse Moreo Ussorio con la sua sposa per anni, poi ovviamente si fa sposare dal vescovo e tutte queste cose qua. Prima era per d'annunzio, poi lo tradisce. nessuna idea, nessun principio, nessun valore, nessun criterio, nessuna strategia, solo tattica, solo opportunismo, solo idee prese a prestito, no? Le cose orecchiate al bar, le grida della folla, un passo indietro, lui lo diceva di sé, io sono l'uomo del dopo e ne vado fiero. Lui arriva un attimo dopo e cosa, se tu la folla non la precedi ma le segui, che cosa fai? Fiuti. Lui diceva di sé non c'è niente da fare, io sono come le bestie, sento il tempo che viene. Fiuti. E quando tu riduci il popolo a folla, a massa, e la massa ha i suoi umori, che cosa fiuti? Della vita bassa. Per lo più malumori. Quando tu riduci la vita a un umore, la riduci a un malumore, alla paura, allo scontento, all'insofferenza, al risentimento, al rancore. E allora lui si riempie e questo vaso vuoto lo riempie di questi malumori e soffia su di essi. E soffa su di essi. E poi ne trae il guadagno. Terzo punto. Qual è la passione triste, diciamo così, quando riduci la vita del popolo a folla e quella della folla a massa e quella della massa e i suoi umori, che domina su tutti gli altri. Cent'anni fa, come oggi, la paura. La paura. Mussolini lo sapeva benissimo perché era stato nelle trincee della Prima Guerra Mondiale. Non aveva avuto una condotta eroica, però aveva fatta un po' la guerra. Poi si era ferito, si era ferito in addestramento. aveva visto quest'umanità che per tre anni aveva vissuto di paura, mangiato paura, fumato paura, dormito paura, se si potesse dire, in una trincea dove la morte poteva arrivare da ogni lato, dal cielo, da queste masse di ferro fuso, dai gas vaporosi, dalla terra di nessuno, un nemico invisibile. e lui veniva dal Partito Socialista. Il Partito Socialista che cos'era? Era il Partito della Speranza. Il suo simbolo era il sole dell'avvenire. Appunto, la speranza che il futuro fosse un luogo bello, un domani radioso, un momento di giustizia e vendetta che generazioni di schiene spezzate avrebbero avuto finalmente giustizia e che la vita appunto dei miei figli sarebbe stata migliore della mia e quella dei miei nipoti migliore di quella dei miei figli. Però lui il Partito Socialista ce l'ha alle spalle, ha tutta la frotta bruciata, quel popolo lo ha perso, non può più coltivare la speranza e allora lì ha questa intuizione che esiste una sola passione politica più forte della speranza ed essa è la paura e lui scommette tutta la sua intera posta politica sulla paura sulla paura di cosa? Questo è il passaggio secondo me più sconfortante sulla paura di cosa? La paura delle speranze degli altri. In Italia c'erano milioni di persone che speravano in una vita migliore ed erano anche pronti a fare la rivoluzione per essa ma ce n'erano altrettante che avevano paura che le speranze degli altri si realizzassero che la rivoluzione venisse fatta la piccola borghesia prima poi la grande borghesia subito salterà sul carro ma prima ancora la piccola borghesia quelli che avevano poco e se l'erano guadagnato a fatica non volevano rinunciarvi e lui allora alimentò questa paura ingigantì la paura dei socialisti della rivoluzione socialista in varie forme di propaganda abbiate paura abbiate paura questi vi portano via tutto vi portano via quel poco che avete vi portano via la vostra casa il terreno i fittavoli che avevano infitto le vostre donne i vostri figli e venivano costantemente dipinti attenzione i socialisti italiani italiani dell'epoca come stranieri come stranieri invasori forestieri uno dice ma come sono italiani anche tu eri socialista sei nato a Dovia di Predappio sei romagnolo sei italiano no perché i socialisti guardano si rifanno alla rivoluzione russa la rivoluzione d'ottobre che c'era stata nel 17 quindi il loro ideale è un ideale russo è un ideale orientale pensate che la propaganda fascista dell'epoca definiva i socialisti come portatori della peste asiatica come se fosse un'infezione una malattia venuta dall'oriente non sono italiani sono stranieri sono invasori accampati sul territorio nazionale sono anti italiani e quindi e qui torno all'inizio e poi mi avvio alla conclusione sono uccidibili va da sé che io vedete non ho fatto nessun riferimento all'attualità però credo che come nei cruciveri parole crociate cose i puntini ci sono le lineette potete tirarle a voi va da sé che il posto simbolico di ciò che era stato il socialista all'inizio degli anni venti del secolo scorso oggi è stato preso dall'immigrato però qui c'è l'ultimo passaggio io avrei altre caratteristiche del leader populista ma credo che il tempo a mia disposizione sia quasi esaurito c'è l'ultimo passaggio vi avevo detto prima che Mussolini punta tutta la sua posta politica sulla paura sul coltivare queste passioni tristi e quindi alimenta e fomenta la paura però la paura è un sentimento no? non è un'emozione adesso noi c'è tutta questa retorica delle emozioni 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 ma ci sono delle cose più importanti nell'umano delle emozioni per esempio i pensieri secondo me i sentimenti il sentimento è un'emozione che però viene riconfermata nel tempo mentre l'emozione è qualcosa di estemporaneo che poi si spegne il sentimento come l'amore no? è dura se no è un'emozione allora la paura diventa un sentimento qualcosa che ti accompagna giorno dopo giorno però è un sentimento reattivo introverso depressivo no? ti spegne ti chiude ti ammorba ti affloscia e c'è un ultimo scatto che il leader populista il Mussolini populista compie prima sparge paura a piene mani e poi opera questa sorta di commutazione alchemica dalla paura in odio prima dice abbi paura il socialista abbi paura e poi gli dice no non devi più aver paura odialo vedete che l'odio l'odio è un sentimento attivo è un sentimento esuberante estroverso va verso fuori è un sentimento euforizzante ti eccita e quindi lo schema alla fine del leader della predicazione della seduzione populista è quello di una brutale semplificazione della complessità della vita moderna Mussolini capisce che la vita moderna pesa sulle spalle di moltissimi individui che se ne sentono schiacciati che il Parlamento è l'equivalente politico istituzionale della complessità della vita siamo in tanti siamo diversi ognuno ha le sue idee i suoi orientamenti i suoi bisogni le sue necessità e quindi in Parlamento siedono tante rappresentanze diverse dalla cui composizione complessiva emerge il quadro della società e Mussolini non a caso tutto il fascismo e tutto il populismo che è nel fascismo attacca polemicamente il parlamentarismo fin dalle origini con un ostentato disprezzo per il Parlamento il Parlamento con parole che riecheggiano nei secoli fino ad oggi le mummie di Montecitorio vanno messe in liquidazione noi fascisti non siamo la politica noi siamo l'antipolitica noi non siamo un partito noi siamo un antipartito e allora questa predicazione che ti dice che la realtà è molto più semplice di quanto quelle mummie di Montecitorio che vogliono tenersi buona la cadrega ti dicono in realtà la realtà non è così complessa tutto si riduce tutto sommato a un unico problema e quel problema si riduce al tuo nemico e il tuo nemico che è lo straniero invasore socialista ti sta di fronte eccolo lì e io il fascista il populista sto al tuo fianco semplice no? seducente no? falso voi direte sì è una promessa che non promette niente è vero ma proprio per questo mantiene la promessa ci hai ci hai davvero ipnotizzato adesso è molto difficile per me diciamo riportarci no? uscendo da questo da questo racconto così incalzante ma che si fa anche proprio insomma non è solo una radiografia è veramente già una sceneggiatura cioè tu rivedi e ci fai rivivere no? quei quadri che poi ci riportano fino all'oggi io ti lancio proprio metto sul tavolo due o tre due o tre cose anche perché immagino che poi anche dal pubblico vogliano farti delle domande di tutti i tratti che della forza di seduzione che ci ha illustrato di Mussolini quindi la capacità la personalizzazione della politica quella che tu chiami la supremazia trattica del vuoto questa grandissima capacità di tradire se stesso quindi di essere un grande opportunista la forza insomma anche di esclusione i meccanismi di esclusione verso il diverso verso quello che è altro da sé e dal popolo qual è secondo te il tratto che più ti rievoca l'oggi intendo ovviamente con l'oggi non una situazione specifica o un leader specifico ma diciamo quell'atmosfera perché per me per esempio oltre il discorso dell'antipolitica che è veramente impressionante cioè il discorso del palazzo l'attacco al palazzo l'attacco appunto ai professionisti della politica le vecchie mummie che proprio insomma mi riporta alla mente e allo sguardo parole immagini recentissime c'è questa cosa forte dell'immallinconimento del ceto medio che mi sembra davvero davvero quello che ancora oggi ci troviamo ci troviamo di fronte per cui tu parlavi prima hai definito la paura delle speranze degli altri è anche una paura di perdere la battaglia per il futuro allora mi è impressionato perché proprio ieri preparando due o tre cose sull'incontro di oggi mi è capitato all'occhio il capitolo il rapporto del census del 2022 sulla società italiana ed è impressionante perché entra nel ciclo del post-populismo alle vulnerabilità economiche e sociali strutturali di lungo periodo si aggiungono gli effetti deleteri delle quattro crisi sovrapposte pandemia guerra corrente alle porte dell'Europa alta inflazione morse energetica e il risultato è che i grandi eventi della storia hanno fatto irruzione nelle micro storie delle vite individuali con il 61% degli italiani che teme che possa scoppiare il terzo conflitto mondiale il 60% il ricorso alla bomba atomica insomma è una società malinconica la definisce proprio il census allora io mi chiedo è la stessa società a cent'anni di distanza e ancora una volta è proprio nel ceto medio il luogo sociale del rischio in queste promesse di uguaglianza che poi sono state sono state tradite perché l'impoverimento del ceto medio lo raccontiamo insomma ormai da diversi anni tutti i giorni quindi volevo chiederti uno qual è il tratto che ti riporta di più all'oggi e due una riflessione su questo su queste passioni tristi insomma se le rivedi e se sono le stesse di cent'anni fa allora tutti il tratto che più secondo me ci riporta all'oggi effettivamente allora dal lato dal lato della della forma della leadership del tipo della leadership io credo che sia quella quella vuotezza cioè quella capacità e non c'erano ancora i social peraltro faccio vedere no? sì quella capacità di appunto di quella che appunto io chiamo a volte la supremazia tattica del vuoto il fatto che se tu sei vuoto sei contenitore e ti riempi della della dell'umore che è quasi sempre ma l'umore hai un vantaggio oggi diremo della pancia noi diremo della pancia sì questa cosa che si dice parla alla pancia spesso allora le frasi fatte i luoghi comuni sono fuorvianti però nascondono una profonda verità nascondono una profonda verità che va esplorata su chi ha delle idee su chi ha dei principi su chi ha una stella polare a cui attenersi ti danno un vantaggio ti danno un vantaggio se poi le idee i principi e la stella polare ce l'avevi ma l'hai persa l'hai smarrita come dire il vantaggio degli altri e stavo pensando alla sinistra italiana e il vantaggio si accentua io adesso qua bisognerebbe fare degli esempi riferiti alla cronaca politica recente di questa capacità di cambiare in corsa posizioni pensiamo soprattutto alla politica internazionale ieri era Orban l'idolo e adesso all'improvviso non lo è più anche se secondo me la Polonia è il modello non quello ungherese quello che loro hanno presente chi sono loro 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 gli altri e d'altro canto nel fatto di cambiare idea secondo me c'è un processo virtuoso c'è un processo virtuoso significa non essere degli idioti del tempo chi di noi crescendo maturando non cambia idea su certe cose magari non su tutte io alcune delle cose di cui vado più fiero sono delle forme di fedeltà a quel ragazzo insopportabile che ero però certe idee le cambi ma se le cambi le cambi ti rimetti in discussione se provieni da una gioventù fascista o neofascista magari la rimetti in discussione la rinneghi o la ripensi non fai come se nulla fosse salvo poi farla venire fuori di qua e di là ogni volta così distrattamente per esempio quando devi commemorare le vittime della barbarie nazista le forze ardiatine e ti dimentichi che erano degli antifascisti e li qualifichi come italiani generici allora si può cambiare ma si deve cambiare per cambiare se no è un'altra cosa però adesso lasciando perdere loro loro dico chi di mestiere fa la politica mi sembra oggi vedendo qui mi sembra addirittura più importante pensare come dire a noi a tutti noi alla base elettorale è a quella malinconia che ci ha preso a quella malinconia che ci ha preso tu l'hai a ricapitolarla a me da alcuni anni ormai il tratto più evidente di questa malinconia diciamo generazionale ed epocale non individuale parliamo di generazioni e di epoche io l'ho ravviso nella nella forte infecondità della generazione a cui appartengo proprio infecondità in senso specifico della generazione della riproduzione sessuale della generazione di della autoriproduzione della generazione di altri esseri umani beh io appartengo a una generazione che è stata tra le più infeconde forse la più infeconda della storia dell'umanità insieme a quella della parte diciamo centrale degli anni della guerra ma lì avevano qualche buon motivo e fra l'altro io appartengo a una generazione ampiamente infeconda poi essendo negli ultimi trent'anni collocato a Milano Milano semicentro diciamo ecco lì i tassi di infecondità diciamo sono vertiginosi sapete che soltanto il 10% scarso della popolazione residente nel comune di Milano no anagraficamente forma una famiglia con almeno un figlio uno dice no non è possibile beh tu considera che noi oggi come tasso di fecondità abbiamo uno dei più bassi in Europa cioè siamo 1,3 figli per coppia e diciamo tra chi fa demografia si dice che abbiamo una fecondità bassa tra le basse perché oltre ad avere questo tasso siamo anche il paese che ha in percentuale il numero di figli più alto dopo i 40 anni per le donne quindi diciamo ci sono una serie di cause strutturali anche culturali che si vanno sommando però questo discorso che fai tu sull'impossibilità anche la difficoltà di vedere il proprio futuro si traduce sicuramente in questo mancato desiderio perché siamo anche uno dei paesi dove c'è questo fertility gap la differenza che può esistere tra il desiderio di avere un figlio e poi la possibilità concreta di realizzarlo adesso qui ci avventureremo su un altro terreno io credo che il discorso della possibilità concreta se si attribuisce diciamo alla base materiale dell'esistenza e quindi alle difficoltà materiali il fatto di non far figli non regge sono assolutamente d'accordo ma sai perché perché certo noi siamo un paese che non fa le giuste politiche adesso dire per la famiglia non mi piace neanche le giuste politiche di sostegno alla donna io la metto così invecchiando sto diventando femminista ma femminista però novecentesco non di questa roba qua le donne le donne il corpo della donna e tutte quelle cose lì ma non apriamo questo capitolo allora ministra roccella allora potresti andare d'accordo sì sì no 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 lei è l'anticristo cioè detto detto bonariamente scherzando no ma adesso stiamo scherzando no scherzando lo diciamo scherzando ma per dire una cosa seria lei no lei è sul pezzo nel senso che lei viene da quella cultura lì come pochi altri e però la rovescia nella sua antitesi ma sarebbe interessante il confronto d'accordo o no ma interessante sì ma non questa non può essere una mia battaglia perché come vedete diciamo anche da caratteristiche fisiche non sono titolato io a fare questa battaglia ma quella per i figli sì è su allora 1.3 ma 1.3 con tutti gli immigrati no e con tutto il sud con tutta la provincia con tutto il meridione con tutte le montagne ma Milano semicentro sarà 0604 e perdonatemi questa questa viene filmata sta roba rimane un indicatore diciamo di questa infecondità intanto io non mi devo candidare alle elezioni ah no però poi non venga più il libro diciamo è è la densità invece nella città di Milano di altre specie animali mettiamola così va bene è proporzionale no allora ritornando ma poi non ci siamo mai morsi dalle questioni serie questa immalinconirsi della nostra gente si manifesta in tanti modi anche nella cabina elettorale ma secondo me innanzitutto nel fatto che non facciamo più figli e quando li facciamo se li facciamo li facciamo oltre i 40 anni io per primo eccetera eccetera e e oggi a me più ancora che questo infatti tutte le altre cose che ormai dico mi sembrano quasi vane e sciocche si manifesta nel fatto che non reagiamo di fronte a quella che è ormai evidentemente una prossima apocalisse del nostro mondo l'ambiente ma santo Dio voi vivete a Torino Torino è affratellata in questo a Milano ma vi siete accorti che non piove più? ve ne siete accorti? non piove più non piove più fra poco comincia il razionamento dell'acqua dell'acqua in grandi città culle di civiltà come Torino come Milano che hanno gli acquedotti pubblici da secoli non in una piccola isola diciamo così del sud d'estate quando il rivo si secca apriremo il rubinetto non uscirà più l'acqua cosa stiamo aspettando? adesso molti di noi sono consapevoli se ne occupano ma mentre io dico questo so che non so ne parlo della mia città a Milano si discute di fare un secondo stadio dell'Inter e un secondo stadio del Milan due stadi diversi che dovrebbero consumare ettari di quel poco terreno verde che c'è e che è rimasto in città ma di cosa stiamo parlando? e secondo me questa è una piega malinconica è come se ormai avessimo mollato la pezza mollato il colpo vabbè alla fine del mondo sai andiamo a vedere la partita quindi oggi sono tantissimi gli studiosi che definiscono prendo solo uno degli ultimi degli ultimi casi Alessandro Campi con il suo libro sul sulla nazione sul sovranismo definiscono definisce il populismo appunto come questo nazionalismo dei popoli stanchi quindi secondo te anche per lo sguardo che hai usato in maniera retrospettiva è un destino ineluttabile questo del populismo o ce ne libereremo prima o poi? No ma molti la maggioranza in questo paese però la maggioranza non è tutti perché questo è uno di quei di quei giochi delle tre carte che appunto il populismo sovranista tende a io sono il popolo il popolo sono io la maggioranza è tutti no non è tutti ci sono tanti che la pensano diversamente sono un po' meno alla metà insomma andrebbero preservati no io ecco una parola che proprio cancellerei dal vocabolario se avessi pieni poteri come quello lì è ineluttabile no se noi ascoltiamo la storia dei nostri padri e dei nostri nonni nella forma che volete attraverso la tradizione orale quando è ancora possibile che è la forma più personale no e quindi più calda più bella studiandola nei libri degli storici perché no o leggendo M se volete una cosa ci appare evidente molti lettori di questo libro di questi libri mi hanno detto ma sai io ovviamente lo sapevo come erano andate a finire le cose però la cosa bella è che mano a mano che leggevo mi sentivo dentro immerso nel flusso degli eventi mi sembrava impossibile che andassero come sapevo che poi erano andate e questo per me è una gratificazione perché il romanziere punta a questo a darti una una conoscenza ma immersiva partecipata ma quella sensazione che alcuni lettori hanno provato non solo che le cose sarebbero potute andare diversamente ma che sembrava addirittura impossibile che andassero nel modo in cui poi sono andate corrisponde alla verità la verità è questa allora come oggi questo questa bella manifestazione che si tiene da molti anni quest'anno è dedicata alla libertà e alla democrazia la verità è che la libertà è sempre lotta per la libertà non c'è una libertà senza lotta la democrazia allora come oggi allora soccombette è sempre lotta per la democrazia la storia questi uomini comunisti fascisti davano l'assalto alla storia proprio usavano questa espressione adesso io non vi invito a dare l'assalto alla storia mi sembra troppo ma sentirvi parte di una storia che è vostra che è più grande delle vostre vite a cui voi contribuite che non è finita che richiede ancora la vostra partecipazione la vostra lotta è così se tu non lotti per la libertà per la democrazia per la storia non sei neutrale ti stai arredendo è così io guardate anche qui fatemi dire una roba generazionale di questa generazione privilegiata e un po' sciagurata a cui appartengo no quella di chi si è affacciato alla vita adulta negli anni 80 in questo pezzettino privilegiato di mondo in cui viviamo noi e non parlo per tutto il mondo gli anni 80 del riflusso del disimpegno delle televisioni commerciali il consumismo era divertente è stata una vita diciamo così privilegiata sotto molti punti di vista ma uno dei tanti abbagli delle tante diciamo piccole menomazioni spirituali che abbiamo scontato noi ragazzi privilegiati sotto ogni altro punto di vista degli anni 80 era l'idea che la libertà politica poi c'è la libertà individuale la libertà erotica e tante altre la libertà politica la democrazia fossero cose ovvie scontate erano erano lì era nell'aria che respiravamo erano tutti intorno a noi sembrava che fosse sempre stato così ma non è così le avevano conquistate al prezzo di sacrifici che a volte sono costati vite tante vite i nostri padri i nostri nonni le nostre nonne le nostre madri e non solo i partigiani della montagna che la loro memoria sia benedetta io quando ero ragazzo sognavo di scrivere un romanzo sui partigiani non su Mussolini e poi l'ho scritto ho scritto un romanzo dedicato a Leone Ginzburg che veniva da questa città e che è stato un grande antifascista prima di scrivere M e quando fantasticavo fantasticavo di poter scrivere un libro un giorno intitolato Partigiani della montagna sentite com'è bello però ovviamente quello poteva scriverlo Giorgio Bocca perché c'era stato non è che tu puoi se non ci sei stato non puoi scrivere un libro Partigiani della montagna e a noi ci parve che tutto ovvio scontato e non era così e oggi ci accorgiamo che non è così non è così perché io lo dicevamo in principio io non ho mai guardate ho dedicato anni della mia vita a studiare e a raccontare il fascismo proprio per questo non posso farla parte di quelli lì l'intellettuale di sinistra che ogni tre minuti urla tornano i fascisti le camicie non è così non tornano i fascisti nella loro forma storica è una fuorviante semplificazione dire questo no tornano quelle pulsioni tornano quelle pulsioni antidemocratiche in forme nuove diverse per alcuni aspetti somiglianti per altri aspetti differenti per esempio non c'è la violenza squadristica nelle strade no ma questo non significa lei fa così no non c'è non c'è non c'è perché ma sì però amici ascoltate io sono il primo che la conosce la vede e ne ha orrore ma cent'anni fa ogni fine settimana si ammazzavano a decine a centinaia e ti venivano a prendere a casa ora ti vengono a prendere in altre forme adesso non fatemi fare il caso personale ti vengono a prendere ma in altre forme non ti aspettano dietro l'angolo e ti massacrano di botte allora non facciamo questo errore di dire torna il fascismo come cent'anni fa e poi non vediamo in che forma tornano quelle stesse pulsioni antidemocratiche quando io sento parlare di democrazia autoritaria che è chiaramente una contraddizione in termini non esiste una democrazia autoritaria vedo quelle pulsioni tornare quando vedo che sempre più numerose centinaia e milioni di persone non solo in Italia ma in Europa in Nord America sono pronte a scambiare parte delle loro libertà democratiche per una promessa illusoria fra l'altro di sicurezza protezione e cose vedo tornare quelle pulsioni e allora vi dico che non solo non è ineluttabile ma che la lotta non è finita vogliamo magari approfittare so che siamo coi tempi strettissimi per raccogliere qualche domanda dal pubblico così grazie non so se si sente non so chi ha il microfono ti puoi alzare in piedi ok perfetto allora a proposito del presente del passato avvicino un po' il microfono grazie noi tutti abbiamo individuato dei tratti di presente in questo racconto io ho fatto un po' un esercizio cioè ho provato a dimenticare per un attimo che si stesse parlando di Mussolini e di pensare che il soggetto si sente? lì in fondo sì sono qua quindi ho pensato per un attimo ho dimenticato che si stesse parlando di Mussolini ho immaginato che si stesse parlando della Meloni no quindi tutto il discorso sulla vibrazione dei corpi di questo passaggio delle informazioni da corpo a corpo penso ad esempio al discorso identitario io sono Giorgia sono una donna sono cattolica nella logica escludente di amico nemico no? però cioè pensando a questo poi penso a quali sono gli strumenti per andare oltre questa politica basata sull'istinto anziché sulla ragione io vabbè nel caso di specie ho un dottorato di ricerca e diritto costituzionale quindi come dire sono abituata a ragionare a basare tutto sulla ragione ma come dire le persone in genere non lo fanno quindi la politica si basa sull'istinto sulla pancia su questa trasmissione delle informazioni che arrivano appunto non da testa a testa ma da corpo a corpo quindi qual è dal suo punto di vista una soluzione che mi sembra una domandona lo so però quali possono essere le soluzioni da questo punto di vista quindi cercare di instradare la politica più sulla ragione anziché sull'istinto se sei d'accordo magari ne raccogliamo due o tre così prego posso? che ha il microfono può parlare certo e poi magari lei può chiederlo così può sempre uscire se vuole chi? senta allora posso finalmente ecco grazie allora dottor Scurati lei ha parlato benissimo del fascismo di tutto però non ha detto ha lasciato fuori una cosa fondamentale chi ha voluto il fascismo è il parallelismo tra il fascismo e il nazismo perché tra Hitler e Mussolini sono due storie due percorsi paralleli ma proprio paralleli Mussolini che è nessuno viene portato dalle classi dominanti fino a quel punto viene sostenuto e poi attraverso le squadre fasciste a cui vengono lasciate fare le violenze che volevano e c'erano tutti i modi per fermarle e non sono stati fermati non casualmente ma la stessa cosa avviene in Germania cioè in Italia c'è stato il bienio rosso non dimenticatelo il bienio rosso che va dal 19 al 21 in Germania la Repubblica di Weimar produsse quello che era il grande fenomeno di Karl Liebner Rosa Lusenburg no? le grandi lotte della sinistra e si creò la famosa come dire milizia delle SA che non erano le SA erano quelle prima no no perché se no non capiamo e Hitler che fu arrestato non fu messo in prigione perché dopo il put di Monaco fu messo in prigione attraverso per la sintesi soprattutto la domanda perché se no dobbiamo metterci a far lezione e nazismo poi chiediamoci anche perché quelle classi loro dottor Scurati non sono i politici la domanda non mi faccia togliere la mano loro non sono i politici sono le classi dominanti che da sempre hanno creato il fascismo il nazismo e creano il coloquismo adesso quelle sono le classi dominanti e quelle rimangono tali grazie questo è il problema grazie a voi raccoglierei anche la terza domanda il signore lì che si sta sbracciando da una decina di minuti grazie mi presento brevemente perché sono Franco D'Ago uno studioso d'arte del ministero della cultura e mi rifaccio a Dux il libro che forse abbiamo letto io o lei non so chi di voi io ho la fortuna di avere l'edizione originale mio padre è l'antiquario quindi me lo sono riletto in questo periodo e tornando anche al fatto della comparazione tra Hitler e Mussolini dunque mentre Mein Kampf adesso poi brevemente è uscito un libro lui Hitler molto comico ironico che Hitler si sveglia cosa ne pensa lei perché io faccio anche educazione e accoglienza didattica proprio qui davanti al teatro caniniano e riedire perché noi non possiamo giudicare la storia con i nostri occhi come ha detto giustamente lei anche lei ha scritto solo M come Dux e di fare delle riedizioni mentre di Mein Kampf e questo lui di Hitler ce ne sono tante cosa ne pensa di riedire non so non so se sono state fatte più riedizioni di Dux che leggendo Dux si capisce bene l'uomo Mussolini grazie posso ancora aggiungere una domanda posso c'è un ragazzo qui il ragazzo grazie 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 per il ragazzo buongiorno mi chiamo Roberto sono di Torino intanto complimenti si dice in questi casi per la trasmissione complimenti anche per i vostri toni che usate quindi dimostrate ancora una volta che per essere ascoltati non basta urlare anzi mi sono molto piaciuti i vostri toni di entrambi volevo fare due domande molto veloci una su Mussolini e una considerazione sulla infecondità uno se mi confermate che noi torinesi nel ventennio fascista abbiamo siamo stati poco diciamo così abbindolati da questo populismo tant'è che mi sembra che sia avvenuto solamente tre volte in vent'anni a Torino proprio perché avvertiva una certa osticità di pecatori in esolo ho letto in qualche libro non so citare gli autori quindi se mi date questa conferma magari ci prendiamo una rivincita sul fatto che Vittorio Emanuele ha fatto entrare dagli scaloni il Mussolini e la seconda sull'infecondità alle volte si dà diciamo così la giustificazione dell'infecondità al fatto che non c'è abbastanza benessere i ragazzi non hanno la sicurezza economica per fare famiglie cose di questo tipo io ho fatto un figlio sono già nonno da sette anni mi penda di aver fatto solo un figlio perché dove mangia uno possono mangiare anche in tre quindi questo è un'esortazione a buttare il cuore oltre l'ostacolo però se non sia una mancanza di benessere o una paura di mancare al proprio benessere che l'arrivo di un figlio ti possa far star bene o bene a livello tuo personale questo grazie ragazze poi abbiamo finito funziona? sì no volevo solo chiederle prima le hanno domandato se il populismo potesse essere in qualche maniera sconfitto comunque alleviato nel senso di il populismo può avere una fine è nato tutto a un inizio una fine può essere una soluzione la cultura e l'educazione alla politica questa è la domanda bene grazie cerco di rispondere telegraficamente cosa che mi risulta difficile ma adesso me lo impongo dovrei ricordarmi domande allora in ordine la la dottoressa nel senso del dottorato mi chiedeva sostanzialmente la domanda quella capitale no che fare non lo so io sono un modesto scrittore romanziere faccio però un suggerimento lo prendo dalla platea da quest'ultimo intervento certo la cultura viene spesso enormemente sopravvalutata quando si tratta di se noi per cultura intendiamo la cultura intellettuale se vediamo per esempio in epoca fascista quanti intellettuali non capirono nulla di quello che stava accadendo oppure lo capirono e si prestarono al gioco però se invece per cultura intendiamo una qualche forma di conoscenza che ti dà una radice una radice in questo mondo e quindi va bene qualsiasi cultura anche anche forse soprattutto la cultura contadina la cultura artigiana la cultura dite voi no non quella roba di chi ha letto tanti libri quella sicuramente è una è una risposta al disorientamento al senso di smarrimento che poi ti fa andare verso le bandiere ben tinte come diceva Mussolini nei momenti di crisi i popoli vanno verso le bandiere ben tinte e ci aveva ragione lo sapeva bene lui ma allora ma se tu c'hai una tua radice sei un po' più saldo no nella bufera e ora come come far crescere le radici non è facile ma dirlo ma insomma il modo poi ognuno lo trova le classi dirigenti si è vero non è un aspetto su cui io mi sia soffermato quanta responsabilità ebbero nella scesa del fascismo le classi dirigenti di allora a cominciare da le responsabilità passive di quelli che non capirono e che pensarono di essere più furbi no tutta la classe dirigente liberale che pensava sì ma questi violenti ragazzotti lasciamoli entrare poi li addomestichiamo no con il gioco la combinazione parlamentare e non capirono che quelli giocavano un altro gioco ovviamente i possidenti terrieri che furono i primi a finanziare le scuole fasciste e poi l'industria certamente la corte la corte adesso poi dirò una cosa su Torino antifascista non c'è dubbio non c'è dubbio però io sono contrario alla visione come dire complottista verticista per cui è tutto sempre un complotto delle classi dirigenti dei poteri forti che hanno messo lì Mussolini che hanno creato Mussolini questa è una seduzione semplificatoria c'è quella componente non va trascurata ma ma da sola non basta nessuno non c'è il grande vecchio dietro è un'ipotesi confortante quella del grande vecchio non c'è né nell'altro mondo io non ho fede ma nemmeno in questo ce n'è caso mai più di uno e sulla questione no io non avverto nessun bisogno di ripubblicare Dux anch'io c'ho una prima edizione l'ho comprata su ebay ma dovevo documentarmi Dux non è amico caro non è un ritratto che ti fa capire chi era Mussolini è una celebrazione retorica scritta bene è propagandistica di Mussolini insomma se volete capire davvero chi era Mussolini comprate M e da ultima visto che siamo a Torino dai fatemi fare come ciclista che saluta la mamma e dice come è bello questo posto sì Torino antifascista non c'è dubbio che Mussolini odiava Torino non ci veniva volentieri ci venne raramente Mussolini era romagnolo e milanese e milanese Milano il ruolo che ebbe Milano nella vita nella formazione Mussolini nella nascita del fascismo non va dimenticato ci venne poco ci venne male volentieri una volta è quasi certo che dopo esserci stato imprecò a denti stretti contro i torinesi con un epiteto che adesso non voglio qui ripetere perché ma sì forse anche un po' per l'indole della città perché era anche una come dire la capitale dell'industria del mondo operaio che fu quasi interamente irriducibile al fascismo ecco come adesso come la storia delle fossi erdatine erano italiani erano quasi tutti antifascisti o ebrei o cose gli antifascisti più duri erano quasi tutti operai e molti di loro non tutti erano comunisti adesso non ce la dimentichiamo questa cosa se voi vedete i rapporti di polizia degli anni metà degli anni venti no quando citerei quasi testualmente tutti i dissidenti sono stati sgominati chi è emigrato chi è stato incarcerato e cose rapporto di polizia solo i comunisti non disarmano adesso comunisti tutti i limiti non è che voglio riproporre il comunismo però ricordiamocelo che l'antifascismo è stato di ispirazione non solo ma principalmente operaio e comunista e Torino lo era però vorrei anche ricordare che in questa città la violenza squadrista e la brutalità fascista diede una delle sue manifestazioni più atroci più atroci quando Mussolini era già al potere quando il fascismo era già a Roma nei palazzi del potere in questa città fu compiuta una terribile strage da parte dello squadrismo che seminò decine di morti decine di morti con una caccia all'uomo nelle strade gettandone i cadaveri nel po non vi dico di più perché magari alcuni di voi conoscono questo episodio ma perché se l'idea che in queste strade cent'anni fa ci fu una caccia all'uomo con decine di persone massacrate e i cadaveri gettati nel po vi suscita la curiosità ve la andate a scoprire da sole ma la Torino antifascista comunque non cancellerà l'onza di una monarchia di una monarchia che fu complice del regime dal primo giorno fino a l'uomo a casa sconfitto allora ringraziamo tutti ringraziamo ovviamente Antonio Scurati e ringraziamo anche Torino e la Biennale Democrazia che ci ha permesso questo incontro grazie Maddalena Oliva persone grazie grazie grazie